Sono assolutamente sicuro dell'innocenza del mio assistito. Ci sono tre gradi di giudizio. Se ci sono tre gradi di giudizio è evidentemente perché i giudici possono sbagliare. E quindi impugneremo la sentenza e andiamo avanti. Sono fiducioso nell'appello. Così il legale difensore di Luca Vanneschi, dopo la sentenza di condanna per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese precipitata nell'agosto 2011 dal sesto piano dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca. Adesso il processo d'appello a Firenze è stato fissato prima udienza il 28 novembre 2019. I due giovani Aretini, Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, erano stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione per i reati di tentata violenza sessuale di gruppo e morte in conseguenza di altro reato. Secondo l'accusa, la ragazza sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro da parte dei due Aretini, ricostruzione ovviamente contestata su tutta la linea dalle difese degli imputati. Il prossimo 28 novembre dunque si tornerà in aula a meno di un anno di distanza dalla sentenza di primo grado, a pochi giorni dal deposito delle motivazioni e ancor meno dal ricorso delle difese. Uno dei due reati contestati, la morte come conseguenza di altro reato, è ormai alle soglie della prescrizione. Quando si aprirà l'appello, infatti potrebbero mancare pochissimi giorni all'estinzione del reato nella più ottimistica delle previsioni, quella della procura e della parte civile. Per le difese invece tutto sarebbe già prescritto. In ogni caso i giudici fiorentini dovranno accorciare il più possibile i tempi.